In Italia il fenomeno degli incidenti sul lavoro negli ultimi 16 anni possiamo dire che ha visto un dimezzamento a livello di percentuale, grazie sicuramente a un maggiore livello di conoscenza, all'evolversi tecnologico e anche alla crisi economica. Però in questi sette mesi del 2017 c'è stata una preoccupante controtendenza, infatti c'è stato un aumento invece di infortuni e dei morti sul lavoro. Un incremento percentuale che va dall'1,3 del 2016 al 5,2 del 2017. Le motivazioni sicuramente saranno varie dalla leggera ripresa economica all'età più avanzata dei lavoratori, ma sicuramente anche da un abbassamento dei costi del lavoro e una crescita del lavoro nero. I dati ci inducono a promuovere un ripensamento dei controlli pubblici e un ripensamento dell'organizzazione sul lavoro. Noi vorremmo diffondere una cultura che si incentra sulla sensibilizzazione e sul rispetto della normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro per garantire una prevenzione che sia sempre più efficace, certo in base alle competenze di Roma Capitale. Riteniamo di prioritaria importanza informare i lavoratori sulle innovazioni legislative introdotte in materia di sicurezza e sugli obblighi in capo sia agli antipubblici che dei privati. Roma Capitale ha un osservatorio sul lavoro che verifica la corretta applicazione della normativa attuale e degli interventi a funzione che è di contrasto delle forme di lavoro sommerso e degli appalti che riguardano Roma Capitale. Anche visto l'anniversario che c'è stato domenica scorsa, la sessantasettesima giornata dedicata alle vittime degli incidenti sul lavoro, celebrata in tutta Italia, abbiamo voluto presentare questo atto che vada verso la sensibilizzazione di questi temi critici. Quello che chiediamo è di avviare presso le scuole, biblioteche, centri culturali dei municipi durante tutto l'anno iniziative che sensibilizzino sul tema della sicurezza e chiediamo di riprogettare e rinforzare il ruolo di verifica e controllo dell'osservatorio di Roma Capitale per limitare le insorgenze di criticità che, ahimè, abbiamo visto dalle percentuali, stanno aumentando. Vogliamo che Roma Capitale si faccia promotore dell'avvio di una campagna informativa indirizzata ai lavoratori stessi, corredata da dati statistici concreti, numeri e cause che hanno portato agli incidenti sul lavoro e che sensibilizzi i lavoratori stessi sul rischio connesso all'espretamento delle loro mansioni. Grazie.